E' stata inaugurata nel pomeriggio di ieri, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, la nuova filiale della Banca Montepruno a Roccagoloriosa. Un nuovo capitolo quindi si aggiunge alla storia dell'Istituto di Credito Cooperativo che amplia la sua competenza operativa anche nel Cilento e nel Golfo di Policastro, raggiungendo importanti centri di cui alcuni particolarmente conosciuti dal punto di vista turistico come San Giovanni Appiro e la sua forazione di Policastro e celle di Bulgaria. I nuovi uffici, siti via San Cataldo, adiacenti allo storico e ora dismesso ATM, permetteranno alla clientela di operare con elevati standard di sicurezza e di privacy. Inoltre la filiale è dotata anche di un'area Bangomat Cassa Self 24 ore su 24 che consente di svolgere in massima libertà e autonomia senza limiti di orario e tutti i giorni della settimana ogni operazione eseguibile allo sportello. Al taglio del nastro sono intervenuti il vicepresidente Antonio Cigniello, il direttore generale Michele Albanese, il vice direttore generale Cono Federico, il consigliere regionale Attilio Pierro, il sindaco di Roccagoloriosa Giuseppe Barbi e il sacerdote Don Raffaele Brusco. Emozionato e soddisfatto Michele Albanese si tratta di un nuovo traguardo. Ha affermato che lancia la Banca Montepruno verso nuovi obiettivi, pur riconoscendo le difficoltà di questi tempi duri, una nuova filiale è un concreto messaggio di speranza e di forza non solo per noi ma per l'intero tessuto impreditoriale del territorio.